Andrea, possiamo dire che non è soltanto la disciplina da fare dentro quando non si può pedalare fuori? No, guarda, assolutamente, è una disciplina indipendente e simile al ciclismo c'è il gesto, cioè il fatto di dover pedalare, però nasce come una disciplina di fitness, quindi è qualcosa di diverso allo sport. Quindi non è il ripiego, l'inverno io non posso pedalare. Sono completamente diverse anche perché ha una durata abbastanza limitata, sono 55 minuti di lezione in genere, 50-55 minuti. Ci fa il famoso viaggio immaginario, almeno è quello che fai fare tu, no? Esatto, è un motivo per cui questa attività, cioè è un'attività cardiovascolare, quindi questa è la cosa più importante. E ha una caratteristica particolare, secondo me, rispetto ad altre attività che si svolgono di fitness nelle palestre, che ha sempre lo scopo di allenare, ma allo stesso tempo ha anche un coinvolgimento mentale. E quindi questo aiuta moltissimo a svuotare la mente, a rilassarsi. Cioè la testa te la svidi, la lasci fuori e poi... Esattamente, c'è molta gente che ha bisogno di staccare, lasciare i propri pensieri negativi lontani e focalizzare la sua attenzione per qualche minuto, 50, su quello che sta facendo. Sono fondamentali i battiti nel... Si vive di frequenze cardiache e di percentuali cardiache. Perché? Allora, il motivo è che essendo un'attività cardiovascolare si parla di cuore, con tutti i vantaggi che questa attività porta, che credo siano le attività più importanti nell'era moderna, perché purtroppo la maggior parte delle morti avvengono per il cuore, per problemi cardiovascolari. E quindi questa è una cosa che ci fa bene. Ci fa bene perché ci abbassa la frequenza cardiaca a riposo, fa bene perché ci aiuta a recuperare più velocemente, fa bene perché ci permette di controllare il nostro peso, non dico di dimagrire, a meno che non si facciano gli elementi specifici, ma ci permette di controllarlo. Ci aiuta a stare bene e ad affrontare più facilmente la giornata, proprio perché il nostro cuore, quando facciamo un'attività cardiovascolare, inizia a contrarsi, a rilassarsi più velocemente rispetto alla media, ovviamente. L'abitudine a fare questo tipo di attività poi fa sì che la vita di tutti i giorni venga vissuta in maniera più facile da un punto di vista della fatica, no? E quindi questo porta a una migliore ossigenazione del sangue, alla risoluzione di tanti problemi cardiovascolari. E quindi... Consigliata a tutti? Consigliata a tutti, proprio perché temi parlati di quota e di frequenze cardiache. Il bello di questa attività è proprio questo, che lavorando sulle percentuali cardiache, l'istruttore, io in questo caso, ma come tutti i miei colleghi, non abbiamo bisogno di realizzare una lezione differenziata in base al cliente che abbiamo di fronte a noi. Perché parlando di percentuali cardiache, questo vuol dire che la signora Pinaca di fronte a me o il triatleta che è iperallenato, lavorerà alla sua percentuale cardiaca. E quindi questo fa sì che si possa avere in un unico gruppo qualsiasi tipologia di clientela.